Cosa idea a Cava dei Tirreni al corso Mazzini numero 36 al piano inferiore ti aspetta con le nuove offerte per la scuola valide fino al 12 settembre? Qualche esempio? Pacco di 10 quadernoni firmati a 6,90€, 12 pastelli giotto a 3,99€, 10 penne Peppermate Ink Joy colorate a 1,99€, Pacco di 10 quadernoni in diverse fantasie a 3,99€ e il prezioso servizio di copertine e colibri a 79 centesimi l'una Ci lasci i tuoi libri da proteggere e provvediamo noi, tutto questo e molto altro ancora in circa 300 metri quadri di esposizione Cosa idea, il tuo punto di riferimento per la scuola e la cancelleria, ti aspettiamo!